Ben trovati i rotigi della mobilità rete tram, proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore. Da domani per il rinnovo dei binari in via Prenessina sarà chiusa la corsia tramviaria tra Piazzale Prenessino e Piazzale Labicano. Sino al 3 novembre le linee 2, 3, 5, 8 e 14 viaggeranno integralmente su bus tra Porta Maggiore e Piazza dei Gerani si potrà utilizzare la linea 5 bus al posto della 19. Tra Porta Maggiore e Viale Giulio Cesare sarà in servizio la 19 bus. Da domani al 22 settembre torna anche a Roma la settimana europea della mobilità, la campagna annuale di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Tra gli appuntamenti sono in programma la promozione di alcune strade scolastiche, l'incontro tra Mobility Manager, gli eventi dedicati a chi vuole raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. L'elenco degli eventi sul sito romamobilità.it